Il panico ha salito i turisti presenti martedì alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi, quando un uomo armato di un martello ha aggredito un agente di polizia. Ecco la testimonianza di Isadora, che viene dal Brasile. Non mi aspettavo potesse succedere qui. Pensavo di visitare la cattedrale e che tutto sarebbe andato bene. Ma quando ero lì abbiamo sentito gli spari, ci hanno fatto i sedere, non potevamo andare in bagno, non potevamo bere acqua o uscire. Anche David Stocklow si trovava a Notre-Dame, il turista statunitense e rappresenta anche durante l'attentato alla maratona di Boston del 2013. È un vero peccato. Succede ogni settimana ormai. Spero che questo non abbia nulla a che fare con le elezioni britanniche. Credo che tutta l'attenzione che stiamo dando a questi eventi li faccia sembrare ancora più importanti. E più gli diamo importanza, peggio è.